Credo che l'unica cosa che ho sempre cercato di fare è se me stesso, nel senso che è facile cambiare lì dentro perché siamo sottoposti a pressioni, a voci, a tante cose, quindi secondo me rimanere sempre se stessi può aiutarti nei momenti più difficili perché sai dove cercare. Credo che quello di D'Andrea sia stato più che altro, sono stato soddisfatto perché avevo passato una settimana diciamo difficile per il fatto che avevo molta paura di affrontare questo brano, avevo molta paura del tipo di approccio al brano anche perché è stato difficile cercare per me di farlo mio senza andarle a modificare minimamente, però rischiavo di cadere diciamo nel semplicemente nell'eseguire, quindi di quello sono soddisfatto soprattutto di esserci riuscito alla fine nonostante tutti i pensieri, tutte le paure che ho avuto la settimana, a perdono una Grazie a tutti.